amici di enjoy television quanto tempo era che non sentivi questa frase enjoy television tornate tornate enjoy television siamo tornati siamo tornati in full force e siamo nel 2022 2022 l'ultima intervista che abbiamo fatto con oreste carpi che qui ad ibiza è un'istituzione se non sbaglio risale risaliva al 2012 quindi una decina d'anni fa ci ritroviamo sempre ibiza dieci anni dopo passata anche una pandemia alla fine della stagione 2022 quante cose che abbiamo da dirci oreste è come se fosse ieri ma mi sembra che sia passato un giorno 2012 2022 dieci anni non sono niente non è successo niente in questi dieci anni siamo ancora tutti qua siamo ancora uguali a prima dai anche ibiza sempre la stessa uguale tutto uguale ma va mi sa di noi mi sa proprio hai visto qualche cambiamento tu allora noi siamo tornati dopo dieci anni e ti devo dire la verità la sensazione è stata quella di non essere mai andati via ma questo per quanto riguarda le persone che conosciamo come te come tante altre persone ibiza in sé è un pochino cambiata è un pochino sì un pochino sì voi che lo spieghiamo anche e magari si agli amici di enjoy television anche perché gli amici di enjoy television mi sa che sono cambiati un pochino anche loro la generazione è scattata sono ringiovanito invecchiati ma loro ringiovaniscono sempre loro ringiovaniscono sempre loro sono sempre belli beh dai diciamo che ibiza ha subito un grande cambiamento ma come puoi cambiano tutte le cose nel mondo non è che è cambiato solo ibiza è cambiato tutto però è stata presa che già lo dicevamo comunque nelle ultime interviste di dieci anni fa e già l'avevamo previsto noi è stata presa un po d'assalto dal turismo di lusso e quindi ogni anno di più e ci è rimasto un po poco spazio per il turista fai da te che viene a farsi una vacanzina e se si nota il cambiamento è stato forte adesso anche insomma in questi ultimi due anni chiaramente con tutti questi pasticci che sono successi non si può neanche raccontare esattamente cosa è successo perché dappertutto c'è un po di confusione di diciamo che non è più l'isola di prima non è più l'isola di prima le discoteche rimangono il divertimento rimane però il pubblico è diverso il pubblico diverso e c'è meno spazio forse per il giovane e c'è più spazio forse non forse di sicuro per le persone di mezza età per i vecchi discotecari di una volta che erano quelli che tutte le notti andavano discotecari e ora con calma con calma si va una volta ogni tanto ci sono tanti ambienti diversi alternativi anche si va letto un po prima direi si va letto un po prima non c'è neanche tutta questa ricerca di after non più di qualcosa sia ancora ma meno 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 diciamo che c'è meno scatenato in giro per ibiza c'è gente più tranquilla che cerca divertimento se così si può chiamare di qualità se così si può chiamare io mi ricordo dieci anni fa amici di enjoy television proprio con oreste parlavamo del fatto che se ti ricordi aveva appena aperto l'uja nel 2011 e noi parlavamo del fatto che volevano trasformare ibiza in miami ti ricordi te la ricordi ancora ecco allora ibiza trasformata completamente ma nemmeno miami nemmeno dubai nessuna città in giro per il mondo è riuscita mai ad eguagliare ibiza nonostante ibiza sia cambiata no ibiza ancora io vedo ancora come vedevo 20 e 30 anni fa perché sono qualche anno che siamo qua e le persone che piangono prima di partire quindi vuol dire che la gente continua a innamorarsi dell'isola di forma diversa non più come prima magari non è più legato a farsi 24 ore di festa però comunque la gente viene qua e sta bene sta bene e quando è ora di partire viene la tristezza però non è ma noi già l'avevamo detto nell'ultima intervista e tu mi avevi fatto una domanda e me la ricordo ancora me la ricordo ancora che ibiza diventa miami no già lo è già diventata lo è già diventata era già tutto preparato e era solo questione di anni e adesso abbiamo raggiunto il top perché come dicevi tu a livello mondiale io non credo che ci sia un posto come ibiza preso così da salto da gente benestante da persone del jet set sembra che sia di moda è di moda cioè uno che è un personaggio nel mondo deve venire a ibiza e far vedere che lui è venuto qui esatto ibiza ormai è un brand tu nomini la parola ibiza e si apre un mondo si apre questo brand che si vende da solo oreste sì sì noi a volte quando si affittano case vediamo i nomi della persona che entra e prendiamo paura diciamo come abbiamo dato la casa a questa persona qua perché sono persone che trovi solo sui giornali eppure sono qua che stanno un po' nascosti non è che li vedi tanto non è che li vedi camminare passeggiare per strada sono persone che vengono prendono la loro villa che in questi ultimi anni sono state preparate case veramente a livelli altissimi a livelli altissimi e poi queste persone poi si affittano una barca vanno a mangiare nei ristoranti più più rinomati che ormai qua abbiamo una cultura di ristoranti che ibiza non c'era una volta una volta si cercavano i ristorantini quelli da spendere due soldi ora se vuoi spendere mille euro mangiare non fai fatica una persona riesce anche a trovare posti dove spendi mille euro mangiare posti esclusivi e queste persone vengono e trovano quello che cercano perché poi chi vuole vivere a un certo livello qui lo trova non gli manca niente macchine di lusso ristoranti di lusso tavoli nelle discoteche con 5 mila persone sotto che ballano manca niente manca niente aerei privati arrivano con l'aereo privato il pulmino che li viene a prendere li portano nella villa ci sono tanti concierge che stanno lavorando perché poi ognuno di questi personaggi è ben assistito da qualcuno che si occupa di lui da quando arriva a quando parte che non gli manchi nulla quindi è una nuova isola è una nuova isola però sempre bella devo dirti la verità a me piace questa nuova isola sembra quasi che l'hanno fatta apposta per noi che ci stanno passando gli anni che sicuramente non saremmo più adatti a fare gli scalmanati come abbiamo fatto tanti anni fa e quasi quasi ce l'hanno un pochettino adeguata quindi sotto sotto ci tocca dire che era più bella prima lo diciamo perché guai ma si va bene anche così perché tanto non abbiamo più bisogno adesso noi noi di fare sette serie su sette quando ne abbiamo fatta una due quindi questa isola qua è perfetta stai per caso dicendo che siamo diventati anziani no questa è una parolaccia questa è una bestemmia no 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 siamo adulti adulti maturi e soprattutto abbiamo l'esperienza di aver vissuto al di sopra della media insomma perché di feste noi abbiamo fatte ma tu soprattutto fatte e ne abbiamo anche parlato non possiamo dire che noi ci siamo sempre stati è sempre davanti al fronte se vi state chiedendo di cosa sta parlando reste perché magari voi dieci anni fa che state guardando adesso dieci anni fa non eravate degli amici di enjoy television vi do un consiglio andate sul nostro canale di youtube scrivete ibiza 2012 ibiza 2011 ibiza 2010 riguardate le vecchie interviste che abbiamo fatto con oreste e capirete esattamente di cosa stiamo parlando adesso vecchie interviste non antiche vecchie le persone sono anziane usiamo sempre i termini giusti eh perché sennò poi roviniamo l'intervista senti oreste in questi dieci anni anche tu ti sei evoluto tantissimo in che senso si è evoluto tantissimo vogliamo parlare del tuo piccolo impero ibizenco beh anche prima dai insomma non è che mancavano le cose noi ci siamo sempre mossi a livello globale diciamo abbiamo sempre avuto il discorso di case appartamenti bar ristoranti negli ultimi anni soprattutto dopo quello che è successo in questi due anni abbiamo cercato di non di non azzardare quasi nulla perché insomma eh però qualche cosina di nuovo si è fatto abbiamo provato a fare un deposito bagagli tutto automatico che quindi è un bel servizio aperto 24 ore che al porto vicino alle barche ed è andato molto bene perché le persone vedo che sono sempre più attratte dalla tecnologia quindi fanno tutto da soli con un telefono se volete lasciare la valigia e non avete neanche la paura che il custode della vostra valigia si addormenti perché la porta l'aprite voi il lucchetto l'aprite voi e fate tutto con un telefono pagate col telefono entrate col telefono uscite col telefono e la vostra valigia la maneggiate voi abbiamo aperto anche un cambio di moneta che non è più tanto attuale però comunque continuano arrivare americani continuano arrivare inglesi che hanno bisogno di cambiare le loro le loro monete loro divise anche quello è un servizio in più che soprattutto la domenica vedo che quando ci sono le banche chiuse sabato domenica per fortuna ci siamo noi se no non avrebbero i soldi per comprarsi il biglietto per andare in discoteca a proposito di biglietti per andare in discoteca tu sei sempre stato fortissimo il tuo gruppo è sempre stato fortissimo nella vendita nella prevendita dei biglietti per le discoteche anche questo è cambiato beh è cambiato parecchio perché diciamo che di biglietti se ne vendono sempre meno per strada perché soprattutto anche in questi ultimi due anni in quello che su esse le persone hanno imparato organizzarsi prima quindi parecchie persone hanno paura di non poter entrare in discoteca e quindi si comprano il biglietto prima di partire farei un piccolo appunto qui farei un piccolo appunto qui che non sempre quello che è nuovo funziona meglio quello che è vecchio le prevendite qui a Ibiza le troverete sempre ci saranno sempre per strada quindi non c'è questa necessità per forza di doverla comprare prima perché di sold out ne abbiamo visti forse uno in tutta la stagione quindi le prevendite ci sono sempre state e tante volte forse è meglio comprarla all'ultimo momento perché non avete il problema poi di avere perso il biglietto perché se voi comprate il biglietto online rischiate di non usarlo perché potete cambiare idea mentre invece se si viene preso all'ultimo momento sei sicuro che stai andando lo compri vai e quindi si evita magari il problema di dover buttare via il biglietto comprato che non l'avete utilizzato noi abbiamo sempre il nostro sito ibizadiscotiche.com che ce l'abbiamo da una vita che è una via di mezzo che con 5 euro vi garantite di avere prenotato lo stesso biglietto che potete comprare a prezzo pieno quindi se il biglietto costa 60 70 80 voi con 5 euro lo bloccate e vi siete garantiti che io ve lo tengo e quando venite pagate la differenza io ve lo do se no mal che vada c'è un problema di 5 euro non di 80 vedi che qualcosa non è cambiato perché esattamente anche allora funzionava esattamente così qualcosa non è cambiato bisogna sempre mantenere le radici qualche cosa tutto quello che funziona non va cambiato va mantenuto ti parlavi hai visto hai detto hai visto un solo sold out durante la stagione qual è stato io penso sia era un calvin herris penso calvin herris che veramente andato forte forte c'è stato quello di centro agosto che siamo andati un po in difficoltà però penso che siamo riusciti a contentare tutti però eravamo spaventati di non poter dare i biglietti a tutti quelli che lo volevano ma alla fine lo hanno avuto bene o male tutti però per il resto delle serate a parte forse l'apertura che forse è stata la prima festa dopo due anni e lì veramente la gente si è ammassata ce n'era troppa ma poi dopo si è andata tutta quanta calmando pian piano alla fine tutte le serate hanno sempre avuto la preventiva a disposizione comunque amici di joy television in questo preciso istante siamo all'inizio di ottobre e l'isola è comunque piena c'è un sacco di gente vai nei club è stracolmo parliamo di error l'altra sera l'amnesia parliamo del closing di ghetta di all'ujuaia cioè io ho visto della folla dei numeri grossi sì 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 e non è ancora finita perché fino al 16 ottobre qua penso che sia comunque ancora ibiza il posto con la stagione più lunga perché siamo partiti che era a maggio e siamo in ottobre e si continuano a fare i pienoni non ci sono più tante serate aperte come c'era in agosto che in agosto chiaro che erano tutte aperte però le 3 4 che sono rimaste sono sempre piene ma si parla di 5 6 mila persone a sera tante pure oggi c'è la chiusura della festa all'amnesia di jammy jones e anche lì si prevede tutto esaurito quindi andremo 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 sicuro l'hai promesso io l'ho promesso e se l'ho promesso ad oreste non posso mancare noi non possiamo mezz'oretta dai mezz'oretta giustamente così per vedere non sentirlo solo lo vogliamo vedere dai vogliamo vedere senti oreste non solo pre vendite di biglietti non solo custodia di valigie non solo il cambio ma sempre i tuoi bar al porto c'è sempre il mitico zoo al porto ci sono tutti gli altri bar di oreste e poi anche qualcosa di nuovo come il locale dove siamo adesso l'america ah è nuovo questo non c'era dieci anni fa io non l'ho visto a meno che dieci anni fa non me l'hai fatto vedere mi sono dimenticato di parlare del posto dove siamo seduti allora questo è un ristorante davanti al mare nella zona di figaretas quindi vicinissimo al porto anche dal centro si mangia una paella tipica praticamente quindi lo consiglio a tutti la vista è spettacolare ed è un posto per venirsi a mangiare la paella ci sono anche altre cose però sicuramente come tutti gli italiani hanno sempre il pallino di venirsi a mangiare la paella quindi abbiamo il posto si chiama america ed è a figaretas e io confermo perché sono venuta a mangiare a pranzo a cena in diverse occasioni confermo tutto quello che ha detto Oreste non solo paella venite a visitarlo perché è meraviglioso io l'ho decretato il mio nuovo ristorante preferito ad Ibiza è anche romantico fate la cenetta romantica c'è il caso che riuscite a far innamorare ancora di più la vostra compagna qui perché con la candelina davanti al mare è facile che ci caschi anche l'amore prendete nota mi raccomando e poi per qualcosa di più violento attenzione abbiamo il tantra applied and bossa dove abbiamo creato non solo un bar era un bar è ancora un bar però è diventato ancora di più il punto di ritrovo prima di andare in discoteca e c'è un piccolo club dentro che se qualcuno ogni tanto magari pensa di non andare perché durante una settimana ci sta che uno non vada in discoteca abbiamo fatto una piccola discoteca simpatica dove uno si può passare una serata mentre salta da una discoteca all'altra lunedì in discoteca il martedì magari ti riposi al tantra riposi e il mercoledì vai in discoteca per esempio per esempio ma per esempio il nostro reste non si è fermato solo a Ibiza città perché ti sei espanso anche a San Antonio siamo dovuti andare anche là siamo dovuti andare anche là perché bisogna essere presenti dappertutto quindi abbiamo aperto un locale anche là un locale magnifico a tre piani che tanti già conoscono perché già molti anni che c'è si chiama Rio è in prima posizione davanti al mare dove ci sono le barche e ve lo consiglio ci sono due ristoranti c'è un terrazzo magnifico dove potete mangiare il barbecue di carne che ve lo consiglio e c'è una piccola discoteca anche lì nel mezzo il primo piano ristorante al secondo piano c'è un piccolo club da 150 200 persone sopra anche per fare magari matrimoni ricevimenti funziona bene perché si fa la cena sopra che c'è spazio per 150 persone e poi basta scendere quattro scale c'è subito il dj con la festicciola dentro lo stesso locale stai già pensando a qualcosa di nuovo per la stagione 2023? no perché a questo punto aspetto l'inverno quando passa l'inverno e poi ci sono delle notizie da dare le daremo alla prossima intervista le vuoi dare tutte oggi? no con calma tanto questa è solo la prima finiamo la stagione ci riposiamo e poi dopo vedremo cosa manca ancora Ibiza se manca qualcosa lo faremo Oreste abbiamo parlato di un sacco di cose non abbiamo parlato dei super club di Ibiza perché so che ci sono anche qui delle partite a scacchi che si stanno muovendo che stanno si stanno sta succedendo qualcosa di nuovo è un'altra volta se io ti dovessi dire Bora Bora che è un locale storico di Ibiza che ha fatto la storia di Ibiza cosa mi dici? basta che non mi fai dire quello che non si può dire perché ci sono delle cose che non si possono dire su Enjoy Television possiamo dire tutto dai lo sai insomma ci sono stati un bel po' di cambiamenti dovuti al cambiamento dei tempi e dovuti al Covid praticamente ci siamo trovati quest'anno con il privilege chiuso che non ha più riaperto verrà tutto quanto riformato e verrà riaperto chiaramente nessuno sa esattamente come e cosa verrà fatto non è certo che venga aperto la prossima stagione molto più probabilmente che venga aperto nel 2024 però non si sa ancora il Bora Bora invece dovrebbe cambiare anche lui un po' di stile probabilmente diventerà un'altra struttura di lusso non sarà più il posto di ragazzini scalmanati che ballano e che si buttano la birra addosso ma diventerà anche lì però non sappiamo ancora esattamente cosa per evitare di dare informazioni sbagliate meglio che aspettiamo siamo tranquilli aspettiamo aspettiamo gruppo Pacià invece era stato venduto e adesso la news delle ultime settimane che è di nuovo in vendita cosa sta succedendo Oreste se puoi dirci qualcosa ovviamente ma sai nel mondo io credo che tutto è in vendita quindi sono state operazioni fatte non da privati ma ci sono dei fondi che hanno acquisito il gruppo Pacià tutti sanno perché tanto è stato sotto i giornali e quindi ci potrebbero essere altri fondi interessati a rifare la stessa operazione chi ha comprato a livello di speculazione potrebbe essere interessato a rivendere un po' più alto del prezzo che ha pagato quindi diventa un affare comunque tu compri una cosa a 300 la rivendi a 500 e chi la compra saprà quel che ci deve fare quindi sembra che ci sia un qualche cosa e lo vedremo lo vedremo lo vedremo se qualche di un altro vorrà entrare ma saranno sempre grossi fondi non sarà un personaggio per il momento che viene e compra il gruppo Pacià non credo proprio dal tuo punto di vista la miglior festa dell'isola dell'estate 2022 ma è difficile è difficile perché poi dopo mi dovrei mi dovrei mettere più da una parte che dall'altra dai sono state tutte belle sono state tutte belle Ai, Ushuaia, Amnesia Pacià chiaramente sai dopo ci sono le serate che vanno meglio e quelle che vanno peggio però diciamo che sono state tutte quante bene dai diciamo state quante bene anche il nuovo locale il Club Cinoise che ha sostituito l'Earth che è stata una novità ha aperto un po' in ritardo però comunque sta prendendo piede molto bello, molto elegante c'è questo ristorante anche lui Zuma, molto famoso che sembra che abbia subito preso che sia pieno pure l'Io quest'anno si è messo a fare un pochino più le feste in discoteca dopo la cena è sempre stato lì ho visto un po' come un ristorante adesso c'è anche invece una situazione di dopo cena con la discoteca diciamo, la festa tutte le sede c'è il promuoto tutte le sede c'è la festa quindi finisce la cena comincia la festa la discoteca è un pochino più piccolina un pochino più intima rispetto ai super club di cui abbiamo parlato finora però carina noi ci siamo stati ieri sera siamo andati ieri sera alla festa del nostro amico Oliver che si chiama Pandora che è tutti i martedì che probabilmente farà anche l'inverno e ci siamo divertiti è stata bella è stata bella è stata bella Oreste, altra cosa dobbiamo parlare di un'istituzione di Ibiza parliamo della Troia di Ibiza grande rivoluzione grande rivoluzione per la Troia di Ibiza mai dimenticarsi della Troia che è una delle feste la festa perno dell'isola è una delle poche che sono rimaste della vecchia Ibiza quindi io mi batterò sempre perché questa festa rimanga perché secondo me ha un qualche cosa di storico che non deve mai mancare perché è una festa dove c'è un'energia speciale quando si entra è ancora una festa che coinvoglia anche persone della vecchia Ibiza quindi è una roba che secondo me deve rimanere andrebbe un attimino gli andrebbe dato un pochino più di vita di vitalità coinvogliando un po' di pubblico giovane più giovane perché veramente è una festa dove uno entra e si diverte si diverte c'è un buon feeling c'è una bella energia c'è allegria c'è tanta gente travestita quindi è una festa è una festa come è il Ro che ne parlavi tu prima ci sono qua serate basate sul DJ che è molto bravo che suona la gente viene e vede il DJ freddine come serate direi perché è tutto quanto basato su un DJ che sta suonando e ci sono feste invece che non sono basate sul DJ sono basate sulla festa sull'allegria sulla gioia di vedere cose che succedono coriandoli che cascano dal cielo quindi ci va un po' quella e un po' l'altro quindi bene che ci siano i grandi DJ i grandi nomi perfetto che ci siano che arrivino e che portano pubblico ma bene anche che ci siano feste che non siano solamente basate sul DJ sul divertimento puro il divertimento puro ricordo ancora quando parlavamo della Troia la chiamavamo la festa della gente ti ricordi? e lo è ancora e lo è ancora dovrebbe coinvolgere un pochino di più magari i nuovi clubbers le nuove generazioni ma io sono sicura che Edoardo che adesso è al comando della Troia perché ricordiamo che Brasilio purtroppo ci ha lasciato ci ha lasciato con tanti ricordi tanti bei ricordi e quindi ora tocca tocca a lui tocca a Edoardo a prendere le redini le ha già presi adesso le ha già presi adesso io penso di sì io penso di sì adesso quest'anno è stata un po' complicata perché la festa ha dovuto cambiare di discoteca quindi è andata prima a Lockdown poi dopo è ritornata dove era che non era all'Erd quindi adesso si chiama con un altro nome è tornata diciamo a casa è tornata dicicocando e secondo me ci sono tutti i presupposti perché la cosa possa funzionare immancabile con Baby Marcello Baby Marcello non lo puoi togliere altra istituzione non lo puoi togliere bisogna che ci sia deve è parte ormai integrante della storia della Troia è vero è vero è vero quindi sempre supporto per la Troia di Ibiza una delle feste storiche di Ibiza supporto da parte di Oreste supporto da parte di di Enjoy Television non la abbandoneremo mai non la abbandoneremo mai faremo tutto il possibile perché questa festa rimanga per tutta la vita lo faremo deve rimanere deve deve rimanere perché l'isola non può cambiare al 100% che poi cambi va bene accettiamo tutti i cambiamenti ma qualche cosa bisogna che manteniamo è come il mercatino hippie a Santa Eulaglia c'è ancora ci deve essere sempre anche la Troia insomma quel pizzico di alma deve rimanere qualcosa si bisogna che rimanga qualcosa si guai chi la toglie allora amici di Enjoy Television io devo lasciare andare Oreste perché ha il telefono che è sta impazzendo mi chiamano mi chiamano fa parte del lavoro siamo in mezzo alle chiusure quindi c'è gente che deve sapere dove andare oggi dove andare domani dobbiamo risolvere tanti problemi esatto tanti tanti problemi ma tante le soddisfazioni sono anche no Oreste ah è vero ci siamo dimenticati dovremmo anche consegnare gli alcolici nelle ville ci siamo detti vedi che mi era messo è vero nuovo servizio vedi 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 che fai troppe cose poi io non mi ricordo tutto perché mi dimentico mi dimentico succede che tante ville sono affittate da tante persone e queste persone si montano le loro festicciole nelle ville e quindi abbiamo dovuto creare questo servizio dove portiamo gli alcolici e non solo anche magari qualche volta vogliono organizzarsi delle cene nella villa quindi è tutto un servizio di catering e abbiamo iniziato anche questo servizio quindi quando le persone arrivano ci contattano e tutto quello che loro hanno bisogno nella villa glielo facciamo trovare quello che non usano lo ritiriamo e allora come io vi dicevo tanti anni fa questo non è cambiato quando venite ad Ibiza eccolo qua l'istituzione qualsiasi cosa voi abbiate bisogno dal deposito bagagli al cambio ai biglietti in prevendita per le discoteche il catering per le ville la consegna di bevande nelle ville tutto quello di cui avete bisogno vorreste io una volta vi avevo promesso che vi trovavo anche la fidanzata però adesso se la volevate io vi cercavo anche la fidanzata o il fidanzato però dai quel servizio lì adesso lo mettiamo in stand by dai dai troppo troppo non riesce più a star dietro a tutto va bene Oreste allora io ti ringrazio per ora perché non è finita qui noi abbiamo appena ricominciato non è finita qui lo so vi vedo scatenati vi vedo scatenati secondo me questa Enjoy Television riparte più forte di prima dieci anni che sono è uno stop e si riparte un attivo di pausa ma ci voleva ma ci voleva ci voleva dopo le pause si riparte sempre più veloce di prima in full force in full force da Oreste sì da Ibiza un saluto agli amici di Enjoy Television ciao a tutti come se non fosse mai passato il tempo siamo sempre qui ciao a tutti